Allora, oggi finalmente siamo riusciti a passare questo 12.5 il solito DAX a due ore con apertura gap le prime quattro ore molto forti poi consolidamento e ritorno a 12.5 sulla vecchia resistenza che ora fa da supporto quindi il DAX chiude a 12.5.23 l'ADX rimane sempre su livelli molto bassi però flette di nuovo verso il basso mentre i DMI si incrociano alla rovescia questi incroci multipli prima che l'indice prenda una direzione sono abbastanza comuni quando l'ADX è molto basso perché è come se l'indice facesse dei tentativi da una parte o dall'altra prima di prendere una direzione vedete che anche qui è successa la stessa cosa ce ne sono stati due o tre e la stessa cosa è successo qua quindi ogni volta che l'ADX va su valori molto bassi non bisogna prendere alla lettera i segnali bisogna sempre attendere una conferma in qualche modo o dal livello dei prezzi o dalla persistenza del fatto che si allarghi comunque il divario fra i due indicatori per avere maggiori probabilità che in effetti l'indice stia prendendo quella direzione quindi bene il passaggio di 12.5 bene il fatto che si è fermato sui supporti e adesso domani vogliamo vedere questo movimento proseguire il volatility stop line ha cominciato a inclinarsi verso l'alto quindi se dovessero reggere i prezzi qui su vorremmo vedere l'impostazione di una trend line rialzista quindi comunque la continuazione di quella precedente è che a questo punto si può dire che passi un po' da questi due minimi perché sono i due minimi principali degli ultimi dieci giorni circa bene quindi questo per il DAX i livelli da tenere d'occhio restano sempre gli stessi oltre 12.5 che ovviamente deve reggere poi abbiamo i supporti a 12.2 e il solito gap che ripeto per chi non ha seguito magari le altre analisi questo è molto importante questo 12.000 come livello di supporto ultimo prima di andare a testare la media a 200 periodi questi invece verso l'alto abbiamo 13.000 da raggiungere che è un obiettivo grafico e anche il massimo precedente anche se in realtà 13.000 non è stato toccato è stato appena sfiorato bene questo per il DAX quello che non sta aiutando molto è l'America abbiamo detto che l'Europa ha forza relativa questo è il Dow Jones vi ricorderete che avevamo segnalato che la volatility supply non è stata violata al rialzo mentre negli indici europei fa da supporto qui ancora fa da resistenza e anche oggi dopo ben tre tentativi l'indice ha ripiegato questo è il Dow Jones stessa cosa vale per il Russell l'indice delle piccole e medie imprese che ha diversi top che passano da qui e persino l'S&P nonostante l'S&P abbia dentro i tecnologici è nella stessa situazione è un po' più alto comunque la volatility supply è ancora rossa l'unico positivo è il Nasdaq che però va per fatti suoi Nasdaq è assolutamente performance fuori dall'ordinario anche perché è trascinato dai 4-5 titoli soliti discorsi che abbiamo sempre fatto i FANG con Microsoft che da soli fanno il 40% della capitalizzazione di questo indice che quindi abbiamo anche smesso di guardare perché da questo punto di vista è meno significativo mentre il Dow Jones lo ripeto per chi non aveva sentito altre volte è un indice non pesato cioè ogni titolo non viene pesato per la sua capitalizzazione quindi non c'è il rischio che alcuni titoli siano sovra rappresentati solo perché hanno una capitalizzazione maggiore degli altri bene direi da questo quadro nient'altro il BTP chiudo mostrando il BTP che continua a mostrare forza anche oggi più 0,3 questo è bene per l'Italia in quanto si continua a ridurre lo spread col Bund che siamo a 170 e quindi questa è una buona cosa per il listino italiano che non l'avevamo fatto vedere ma oggi si è comportato in maniera analoga è riuscito a portarsi sulle resistenze a 19,9 e ha chiuso proprio lì e quindi anche per il Futsimib c'è l'inclinazione verso l'alto della volatilità stop line e per cui domani vorremmo vedere queste resistenze finalmente rotte e confermate possiamo anche cancellare il rettangolino anche perché nel frattempo si era allungato e comunque il box rimane questo qua che era il box dentro il quale i prezzi sono rimasti confinati per qualche giorno passiamo ai titoli un amico ci chiedeva di Moncler oggi giornata tutto sommato mista bene i finanziari un po' per il BTP un po' per adesso queste nuove voci o comunque input su possibili fusioni consolidamenti nel settore bancario un amico però ci chiedeva di Moncler settore abbigliamento, lusso definiamolo come vogliamo comunque l'impostazione di Moncler è positiva positiva nel breve se sopra la sua media 200 periodi sopra la volatilità stop line si sta qua a delle resistenze notevolissime perché questo livello di 35,5 ha tentato di superarlo lo vediamo qui almeno 5 volte guardando un po' dall'alto c'è questa grossa configurazione di reversal con questa lunghissima fase laterale che di fatto dura dal 25 marzo questo è un titolo che dal 25 marzo è andato lateralmente ormai siamo a tre mesi di movimento per cui la rottura di 35,5 sarebbe davvero interessante perché minimo obiettivo è la chiusura di questo mega gap che dovrebbe essere il gap del 23 febbraio quindi minimo obiettivo 37,21 e lo facciamo di un colore diverso perché così si vede assento ecco obiettivo minimo qui però c'è la possibilità anche di raggiungere quota 40 come target di un eventuale movimento rialzista vorremmo vedere la presenza di volumi che in questo momento non ci sono però il break non è ancora avvenuto c'è solo diciamo la conformazione dei prezzi è tale per cui c'è l'impressione che il titolo voglia davvero stavolta portarsi sopra 35,5 però dobbiamo prima vederlo anche in questo caso vedete ad x ai minimi per cui sta in effetti per partire un movimento da una parte o dall'altra perché se venisse respinto probabilmente vedremo ancora una volta qualche violento storno verso i supporti perché è così che sta facendo da qualche mese oggi giusto per dare un'occhiata ai titoli bancari Intesa San Paolo ha consolidato i supporti a 1,64 la volatilità di stop line è tornata verde e quindi anche qui in attesa di riuscire a rifare questo test di 1,9 per il momento sembra tranquillo però poi Intesa all'improvviso si muove e quindi secondo me è da continuare a seguire nel brevissimo ha dato segnali vedete che anche il DMI Plus si è portato verso l'alto quindi vediamo se nei prossimi giorni continuerà a mantenere questa impostazione è fortissima Enel chiudo con questa che è riuscita a portarsi sull'ultima resistenza 7,8 dopodiché abbiamo in vista i massimi dell'anno in area 8,5 è uno dei titoli meglio impostati del listino vedete che è riuscito a superare anche i massimi relativi dei primi di giugno va bene tutto per oggi se avete richieste o commenti come al solito lasciatemele sotto e vediamo poi di dar seguito nelle prossime analisi grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione grazie per l'attenzione